Se fosse di peso unicamente da lui, il sindaco di San Dona di Piave, Alberto Teso, non gli avrebbe mai tolto le deleghe, sostiene l'oramai ex assessore al bilancio e al personale Gianluca Forcolin. E in effetti anche lo stesso primo cittadino aveva parlato ai nostri microfoni del venir meno della fiducia da parte degli altri partiti, ma aveva parlato anche di screzi derivanti da prove di forza tra i vari componenti del centro-destra in Consiglio Comunale. Forcolin invece, già sindaco di Musile di Piave, deputato e vicepresidente della regione, dà un'altra lettura del suo allontanamento. Nasce semmai da una, posso dire, una presenza ingombrante magari per una parte dei consiglieri comunali, mista a un fatto che dietro comunque a Forcolin c'è anche il segretario di Forza Italia, in quanto tale c'è una lista che ha preso 2.200 voti, c'è un Forcolin che è stato il più eletto, il più votato a San Dona in assoluto in tutta la città con 522 preferenze personali e quindi ci sono le porte e le regionali. Qual è il futuro dell'amministrazione comunale di San Dona di Piave? Teso e tranquillo perché i numeri, dice, sono dalla sua parte. La maggioranza in Consiglio c'è, anche senza Forza Italia e la civica di Forcolin. Qualsiasi decisione verrà poi concordata con Flavio Tosi, col coordinatore regionale e vedremo appunto se rimanere in maggioranza magari con un rimpasto di giunta e con magari un nuovo componente in quota Forza Italia, se fare un'opposizione costruttiva, se fare da stampella sui provvedimenti che ci saranno e sono utili alla città, quindi comunque un'azione responsabile, questo è poco ma sicuro.